Ciao, lo sapevi che a Voghera c'è un luogo dove crescere è una favola? E sì, perché all'asilo Cairoli, struttura che comprende asilo nido per i bambini da 0 a 3 anni e scuola dell'infanzia paritaria per i bambini da 3 a 6 anni, le fiabe hanno un significato molto, molto particolare. Il percorso di crescita è progettato utilizzando una metodologia di lavoro sempre aggiornata e perfezionata, con attività corredate da numerosi progetti e iniziative calibrate sulle varie fasce d'età. Scrivere una nuova favola insieme è quindi il nostro più grande obiettivo, per cercare di favorire l'acquisizione di elevati livelli di autonomia, promuovendo uno sviluppo armonico che coinvolga la sfera affettiva, sociale, cognitiva e motoria, mettendo sempre in primo piano la libertà di esprimersi. Masilo Cairoli è anche SOS Tata, servizio disponibile 24 ore su 24, che offriamo ai nostri iscritti ma anche a chi non frequenta la nostra struttura. Il nuovo anno scolastico è alle porte. Prendi ora un appuntamento con la direttrice per un colloquio informativo. Asilo Cairoli, dove crescere una... Una favola.